Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Monte San Savino e Firenze in Pruneta e rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Aglio. In A11 rallentamenti per traffico intenso tra l'allacciamento con l'A1 e Prato Est, in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate, fino al 30 settembre, senso unico alternato per il restringimento della carreggiata al chilometro 15980 circa nel comune di Vaglia. Per la viabilità cittadina a Firenze, in Viale Belfiore, è chiuso il tratto compreso tra il numero civico 6 barra C e il numero 4 alla fine del controviale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!